Ragazzi come alcuni di voi sapranno è uscito il trailer ufficiale di Sonic Prime Ora ci sono stati dei teaser qualche mese fa, qualche settimana fa più che altro E quei teaser di mesi fa li ho visti, quelli invece di questa settimana no Molto banalmente perché volevo tenermi lindo per questa... no, no, in realtà no Ero preso da Frontiers molto banalmente quindi insomma perdonatemi da questo punto di vista Quindi non riconoscerò se ci sono delle scene ripetute negli trailer appena usciti Anzi magari li guardiamo anche dopo Però nonostante tutto eccoci qui, il trailer è quello italiano Voglio partire da questo per poi magari guardare quello inglese che ha qualcosa in più, non lo so, vediamo Ma comunque io premo play, dovrebbe essere tutto pronto, via Renato Novara, perfetto Bellina animazione È sempre... sì sì, sono tutti uguali le voci Sì, sì sì, è Claudio Moneta, sì Chissà anche gli altri, penso di sì a questo punto Oh? Sì, è anche Benedetta Ponticelli, è lei È lo stesso cast del film, del gioco Ma... Questo è il multiverso, quindi sì Oddio, gli Eggman Te... no ragazzi troppe cose... fermi Ma... Ma... Io li chiamo Prisma Tunnel Prisma Tunnel, sono... Incredibile Ma quanta roba ragazzi Ci sarà più nulla per cui combattere Sì, Maurizio Merluzzo Sistemeremo le cose Perché abbiamo appena riunito il nostro gruppo Ok, quindi sono loro praticamente contro... Cioè, è un'associazione di Eggman nel multiverso Sì, sembra di sì Rimetteremo a posto questo mondo Sì, credo di sì Wow Ma ragazzi Madonna 15 dicembre, sì Madonna Ma che vuol dire? Fermi, oh Ma... Cosa? Cosa ho appena visto? Ma ha fatto un salto di qualità incredibile Cioè, ma... Ma le mie aspettative da 0 a 100 Ma che stiamo scherzando? Oh madonna mia Ma che... Figata Ma c'è tanta di quella roba da... No, 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 no Allora Con calma Vediamo tutto quanto con calma Mamma mia A parte che Bello il pacing Bella l'azione Bello, bello Non me l'aspettavo Allora Bellissimo che ci sia il cast originale E questo Lo apprezzo E ci godo un sacco Quindi Bravi Meno male Sì, sì È il cast originale Che secondo me quasi Potrà scatenare ancora di più Rouge non so Chi la doppi Sinceramente Quindi qui Viene scatenato il multiverso E Sonic e i suoi amici Sembrano entrare nel multiverso Anche loro Cioè, ci sono I mobiani Schiavizzati Quasi questo È il futuro dove Eggman Ha fatto Eggmanlandia Praticamente E questi sono tutti Ma che figata Ma guarda Ma in che senso Sono quelli del concept Praticamente Quello di mesi fa Che Cioè di un anno fa In realtà Il consiglio del caos E sono tutti Eggman Di multiverso A questo punto Tails Ha le code robotiche Emi è robotica Ma 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 Che cosa Cosa Sì, questo è tipo Un monotrimale C'è pure Big Ma Belli Ma ragazzi Bellissima L'animazione Ma che stiamo scherzando Io li chiamo Prisma Quindi sarebbero tipo I tunnel Che collegano il multiverso Giusto? Sì Quanta roba E questi sono Sono i primi Altri episodi Oppure È tutto Sonic 3 Bellissimo Sto shot Ma che figata Quindi è Sì Una guerra nel multiverso Praticamente Ma Wow Ok E qua c'è Shadow Ma Ok Quindi Shadow C'entra qualcosa Forse Mamma mia Ma Wow Wow Veramente Ecco Questo qui Io non l'ho visto Infatti Come vedete Non c'è neanche Il visualizzato Ah Ha nuove robe Senti Ah Belle le voci Pure in inglese Sì Sono tutti Trasportati Nel multiverso Sì Ah Ah Green Hill Costruita su Green Hill Quindi Ok Guardate le scarpe pure Diverse Boh Ragazzi Aspettative Aspettative Alzate Ma di brutto Proprio Ma di brutto Quindi Il 15 È confermato Ok Anche se Già lo sapevo Ma che figata Ma che figata Ma quanto manca Adesso Un mese Nemmeno Cioè Sì Poco meno Di un mese Che bellezza Ma chi se l'aspettava Una cosa del genere Io pensavo fosse Molto più Infantile Tra virgolette Invece no Fighissimo Fighissimo Non vedo l'ora A questo punto Sembra veramente Bello Sembra veramente Veramente Bello E Spero sia così A questo punto In totale Dovrebbero essere Una specie di 24 episodi Se non sbaglio E il 15 Quindi dovrebbe uscire La prima tranche Di 8 episodi Perciò Tanta roba Non vedo l'ora ragazzi Quando la vedrò Probabilmente farò Subito dopo una recensione La pubblicherò sul canale Piuttosto che la reaction Che vabbè Penso sia copyrightata Quindi Non ci provo nemmeno Però Figata veramente Sono genuinamente Curioso ragazzi Fatemi sapere A questo punto Se anche a voi È piaciuto un sacco Questo trailer Come è piaciuto a me O se avete ancora Qualche perplessità Avete qualche teoria Su che cosa vedremo Io Onestamente L'aspetto tantissimo Sembra Fighissima E non vedo l'ora A questo punto Quindi Vi aspetto qui sotto Nei commenti E noi ragazzi Ci vediamo Tra 3 ore In realtà Perché dovrebbe uscire Il nuovo episodio Della blindera Di frontiers Oggi Ma comunque Ci vediamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima